Sì, stagione nuova, squadra nuova, ancora presto per conoscerti, se non sono arrivati, ma che idea ti sei fatta di questo? Guardi, posso dire che c'è tanto entusiasmo, tanta voglia di fare, pur un po' giovane, perché non ho avuto modo di riconoscere, così poco che non ci siamo visti in scuole a Toio, però vedo che questa ragazza è molto motivata, quindi è stata una stagione impegnativa, però ci metteremo del nostro per andare al massimo. Senti, l'anno scorso è finito, speriamo tutti giusto per una maniera amara, cosa sperate, in cui vi aspettate la terza stagione e come vedi le possibilità e la squadra che si è ancora crescita all'interno e terminale da prestare? Sì, penso che siamo un po' più presto per parlare di obiettivi, diciamo, noi certi siamo una squadra giovane, quindi faremo il possibile e in crescente vedremo cosa siamo gli altri fai. Senti, quest'anno la fascia ti tocca, la vorrei? La vorrei, però ancora non posso dire niente, che nea, aspettiamo il perdetto. Vabbè, nel caso tu non dici io. Nel caso? Non diresti di no. No, certo. Sarà un bel onore. Grazie. Ciao.